Faccio gli auguri di buon lavoro al Vice Sindaco Lorenzoni e al Neo Sindaco Giordani. Poi noi ovviamente faremo opposizione nei prossimi anni, nei prossimi mesi. Vedremo poi quanto lavorerà questa maggioranza e se porteranno avanti quei progetti che sono nel programma elettorale di tutte e due le coalizioni. Ha vinto una grande ammucchiata senza nessun problema, quindi un grande cartello con pezzi del centro-destra per arrivare fino al centro-sinistra. Sono stati bravi perché non sono riusciti a sommare i voti, cosa che non pensavamo fosse possibile. Mi spiace perché c'è stata una risposta direi abbastanza negativa del centro storico di Padova e questo mi pare abbastanza strano visto anche quello che è stato fatto proprio in centro a Padova con tutta una serie anche di attività. Mi spiace per il progetto dell'ospedale perché ovviamente questo probabilmente è stato dirimente. Se i padovani forse non hanno capito l'importanza di un nuovo polo della salute a Padova-Est, forse era molto più comodo pensare a una mera ristrutturazione o ampliamento del policlinico in centro storico, perché questi probabilmente sono gli argomenti, quindi mi pare che non sia capito il messaggio.